Ragazzi impegnati anche in estate con lavori di volontariato utili alla città. Ripartono le esperienze forti e ci sto a fare fatica. Il primo progetto è destinato a ragazzi tra 15 e 23 anni che vogliono dedicare il tempo agli altri. Entrando in contatto con le associazioni del territorio potranno scegliere tra vari ambiti di esperienza nel volontariato. Protezione ambientale, disabili, bambini, protezione degli animali, solo per citarne alcune. Quest'anno abbiamo raggiunto i 22 enti in collaborazione. Il club alpino italiano si è aggiunto, si sono aggiunti anche enti nell'ambito della disabilità e quindi della socialità e anche la protezione civile dell'ANA che sicuramente può fornire al nostro territorio e al nostro futuro un grande supporto. Il secondo progetto è invece rivolto a giovani tra i 14 e i 19 anni pronti a prendersi cura della città che si cimenteranno in squadre per il carteggio, la pittura di panchine, ringhiere presenti nelle aree pubbliche o in alcuni asili, alla manutenzione seguiti da un tutor. Progetto inclusivo da quest'anno aperto anche a ragazzi affetti da disturbi dello spettro autistico. Altra novità sarà che almeno una delle panchine rimesse a nuovo per ciascuna delle strutture scolastiche sarà dipinta di rosso come simbolo del contrasto alla violenza di genere. Quest'anno lanciamo i progetti un po' dell'anno scorso, ci sto a fare fatica e esperienze forti, ma con una grandissima opportunità per ragazzi che hanno bisogno di qualcosa in più, che hanno bisogno sia di essere inseriti sia di dare quello che possono dare. Quindi si tratta di evidenziare una parola che è inclusione, di cui se ne fa tanto uso, ma io nella pratica ho richiesto che vengano inseriti. A ciascuno di loro saranno consegnati i buoni fatica settimanali del valore di 50 euro da spendere in abbigliamento, spese alimentari, libri scolastici. Progetto inaugurato nel 2016 a Bassano, che via via è stato adottato in altre regioni, quest'anno previsto in più di 200 comuni italiani con un coinvolgimento di 6.000 ragazzi. Grazie.